Quindi quando sono venuta qui c'era da trovare intanto allievi, ho fatto un corso d'astrofisica e ho cominciato a vedere studenti, ho cominciato a trovare un posto dove mettere un telescopio, insomma a ricostruire e noi non c'era. Quando sono venuta io nel 64 stavo anche cominciando l'era spaziale in astronomia, ho cominciato allora a fare propaganda in Italia perché i ricercatori italiani si buttassero su questa nuova opportunità di presentare programmi per telescopi in orbita, perché noi non avevamo telescopi grandi, non avevamo nulla.